Allora riprendendo un po' le fila del vecchio discorso se ci siete, noi abbiamo fatto finora tre incontri sulla sclerosi multipla partendo un po' dall'epidemiologia, da qualche dato eziologico, qualche dato clinico, però quello che volevo discutere con voi sono le applicazioni eventuali sia di ricerca che di terapia. Vi faccio vedere alcuni dati che abbiamo sia sull'animale che anche sulla clinica come una molecola di piccole dimensioni, questo fingolimod poi ha dato vita a tutta una serie di ricerche successive e altre che ancora dovranno arrivare, di farmaci di questa categoria che possono essere utilizzati in vivo sul paziente quindi ammalato. Come noi possiamo utilizzare che è l'atrofia cerebrale, cioè il volume cerebrale, mettetela con il bicchiere mezzo pieno oppure con il bicchiere mezzo vuoto. Volume cerebrale significa massa cerebrale, atrofia cerebrale significa qualche cosa che viene a mancare, quindi questo lo capite bene. Sembra che sulla base di questo titolo, così come vedete molto stringato, ha tre parole, che il farmaco possa avere un effetto di riduzione o comunque di mitigazione di quella che è la tendenza che ha l'uomo a perdere volume cerebrale. Per poter dimostrare questo aspetto vi devo spiegare il meccanismo d'azione del fingolimod e i risultati che abbiamo dagli studi di fase terza. Allora intanto andiamo a definire chimicamente cos'è questa molecola e come agisce. È un modulatore di un recettore che si trova sulle superfici cellulari che è la spingosina 1-fosfata. Abbiamo già informazioni sufficienti che provengono dalla clinica, quindi dalla ricerca clinica, ma anche dalla pratica clinica. Noi per esempio abbiamo più di 100 pazienti in trattamento con questo farmaco. Da due studi in particolare di fase 3, uno che è il transforms, come leggete lì, e l'altro che gli altri due sono i due freedoms, il primo studio è stato valutato, ha considerato la valutazione comparativa del fingolimod rispetto a un altro farmaco che è l'interferone beta 1a. Se vi ricordate nelle altre lezioni vi avevo parlato più o meno di terapia di prima linea e di seconda linea. L'interferone beta 1a viene considerato nella cura della sclerosi multipla un farmaco di prima linea. Il fingolimod viene considerato, secondo me a torto, ma questo è un giudizio molto personale, un farmaco invece di seconda linea. Questo studio per la prima volta, quindi è un head to head randomizzato, va a valutare, quindi il transforms, due farmaci, due farmaci che sono entrambi attivi nella cura della sclerosi multipla. E abbiamo anche risultati che vengono dal freedoms, in cui il fingolimod invece viene valutato in maniera comparativa rispetto al classico placebo. Ora, quindi studi con placebo siete abituati magari a leggerli, gli studi invece con un comparatore attivo forse questa qui è una novità assoluta. Sottolineo ancora il meccanismo d'azione è un modulatore del recettore della spingosina 1-fosfato. Ed è il primo nella classe di modulatori di questo recettore, come leggete nel terzo lico di questa diapositiva. Ovviamente affonda un po' il suo motivo ad essere nel fatto che la sclerosi multipla è una malattia autoimmune, una malattia del sistema immunitario. Questo l'abbiamo detto più volte negli incontri passati, quindi a volo, quindi ribadiamo sempre la stessa cosa. C'è un altro dettaglio estremamente importante, questo a che fare con quello che misuriamo e chiamiamo noi aderenza, è che questo è il primo farmaco a somministrazione orale approvato nella cura della sclerosi multipla. Fino all'epoca in cui il fingolimod non è stato approvato, scusate, quindi fino al 2010 e 2011 rispettivamente negli States e in Europa, tutti i farmaci che venivano utilizzati e che vengono tuttora utilizzati per la cura della sclerosi multipla hanno una via di somministrazione iniettiva o per via intramuscolare o per via sottocutanea oppure per via venosa. Il primo orale autorizzato è il fingolimod. Ci saranno tanti altri farmaci che verranno probabilmente successivamente rispetto al fingolimod che hanno più o meno le stesse caratteristiche, lo stesso meccanismo di azione e soprattutto, come in questo caso, interessa sottolineare la stessa via di somministrazione. Oltre al suo effetto principale che è quello di agire sul sistema immunitario, ne parleremo in dettaglio come fa, il fingolimod, proprio perché agisce modulando i recettori della spingosina 1-fosfato, può agire direttamente su alcune cellule che sono residenti all'interno del sistema nervoso centrale. E questo è un punto estremamente importante da sottolineare perché, se vi ricordate la prima diapositiva il titolo, no, fingolimod di atrofia cerebrale, vi anticipo che ogni anno noi perdiamo una certa quota, noi normali perdiamo una certa quota di volume cerebrale, il paziente con la sclerosi multipla ha una quota raddoppiata di volume cerebrale che perde rispetto a un soggetto normale. Il trattamento con fingolimod sembra smorzare un po' questa perdita di massa cerebrale che si ha annualmente. Si ritiene che, questo è ipotizzato e solamente dai risultati che abbiamo agli studi animali, che l'azione del fingolimod non solo sul sistema immunitario, ma soprattutto come modulatore del recettore spingosina 1-fosfato sulle cellule residenti del sistema nervoso, quindi neuroni, oligodendrociti, astrociti e microglia residenti lì, possa avere un effetto di protezione, di sopravvivenza di queste cellule e quindi di riduzione della massa cerebrale che normalmente si perde anno per anno in questo tipo di soggetti. Quindi cerchiamo di tenere in mente due importanti effetti, uno sul sistema immunitario e il secondo sembrerebbe più protettivo, proprio un'azione diretta sulle cellule nervose, compresi anche i neuroni stessi. Se avete dubbi fermati, qui vi ho fatto un cartoon insomma che ricapitola la parte, il metabolismo ecco del fingolimod. Cos'è il fingolimod? Il fingolimod è un analogo strutturale della spingosina, sulla destra vedete la formula di struttura del fingolimod in basso e la formula di struttura della spingosina sono molto simili, agisce su quel recettore che vedete sta sulla superficie delle cellule, quindi prende il doppio strato lipidico della membrana cellulare e una volta che viene internalizzato da origine alla spingomielina che per un'azione di un'enzima, la spingomielinasi, viene trasformata in ceramide, quindi siamo sul metabolismo degli spingolipidi complessi, d'accordo? La ceramide viene a sua volta metabolizzata da una ceramidasi e si forma la spingosina. La spingosina di per sé non è attiva, la sua attivazione dipende dalla possibilità che la spingosina venga fosforilata, quindi le chinasi sono ubiquitarie, viene fosforilata, si forma la spingosina 1-fosfato che praticamente è la molecola attiva e il fingolimod agisce proprio sulla spingosina, sul recettore della spingosina 1-fosfato che viene, vedete, esternalizzato, quindi va da interfaccia tra il mondo interno, quindi la cellula e tutto ciò che viene a contatto con la cellula, quindi altri tessuti e soprattutto il torrente circolatorio. Il fingolimod, come vi ho detto, ha azioni immunitarie. Qual è la sua azione immunitaria importante? Poiché il fingolimod è soprattutto il recettore, questo spingosina 1-fosfato viene espresso sulle cellule immunitarie, quindi sui limbociti, il fingolimod esprime un'attività quindi di natura immunosoppressiva. Qual è la sua azione immunosoppressiva? È quella di agire in maniera tale che i linfociti non circolano nel torrente circolatorio, scusate il pasticcio di parole, ma restano intrappolati nel linfonodo. Quindi il fingolimod agisce attraverso questo recettore della spingosina 1-fosfato sui linfociti a livello linfonodale, tenendo intrappolati i linfociti nei linfonodi. È come se noi avessimo una grande caserma piena di carabinieri, quindi comunque di soldati pronti ad attaccare, pronti ad aggredire, però vengono tenuti fermi, bloccati dentro. Bene, ci sono, ma sono dentro. Questo è un dato estremamente importante, soprattutto quando poi controlleremo i dati di safety, di sicurezza di questo farmaco, perché i linfociti ci servono per l'immunosorveglianza, rischio di infezioni, rischio di cancro, rischio di tante di queste robe. Quindi i linfociti io vorrei averli circolanti, piuttosto che averli intrappolati, però per avere un'azione immunosoppressiva o li ammazzo i linfociti, come fanno tanti altri farmaci, oppure li tengo, come fa il fingolimod in questo caso, bloccati a disposizione. A disposizione che significa? Che se noi sospendiamo il farmaco, questo l'abbiamo visto proprio in vivo nei nostri pazienti, nel giro di 15-30 giorni al massimo, però abbiamo questa bella finestra di tempo in cui il paziente potrebbe essere fortemente immunodepresso, i linfociti tornano circolari. Quindi il fingolimod ovviamente interrotto, non fa memoria, quindi sospende la sua azione, i linfociti vanno nel torrente ematico. Se voi prendete un prelievo ematico per farvi capire meglio questa cosa qui, di un paziente che è sottoposto a terapia con fingolimod, con sperosi multipla, ha sempre una linfocitopenia. Noi troviamo linfociti con valore assoluto di 500, 600, 700, 400, anche 300. Al di sotto di 200, quindi questo è un valore soglia assolutamente importante, quindi è un grado 3, secondo la classificazione degli diversi eventi, dei siti sui diversi eventi, viene consigliato di sospendere il trattamento. Perché ovviamente per l'immunosorveglianza non funziona più e quindi anche un banale herpes potrebbe essere fatale. Cosa che è successa? Due casi sono stati, quindi di anticipo due casi, sono stati mortali per una varicella Zoster in pazienti sottoposti a terapia con fingolimod. Uno di questi è a Firenze, uno a Bologna. Questi due casi sono certi, poi abbiamo un terzo caso in Corea che è ancora sotto investigazione, quindi probabilmente con gli stessi meccanismi. Quindi immaginiamo che l'immunosorveglianza non sia stata ben vigilata, potremmo dire così, oppure la carica virale è stata eccessivamente importante, quindi rispetto a quella condizione c'è stato l'evento fatale, quindi è stato l'evento fatale, almeno in tre casi, solo quindi per infezioni, per infezioni che potremmo banalmente controllare, no? Con un banale antivirale. Questo farmaco ha anche altri problemi. I recettori attraverso cui i linfonodi vengono intrappolati, quindi sui linfociti, sono il recettore 1 e il recettore 4. Il fingolimodo, almeno la spingosina 1-fosfato, almeno 5 diversi recettori, dall'1 al 5, con diverse funzioni. Quelli che diciamo in qualche modo bloccano la migrazione o la fuoriuscita del linfocita dal linfonodo sono i recettori 1 e il recettore 4. Agisce poi anche, come leggete lì, sui recettori 1, 3 e 5, che sono esposte sulle cellule nervose, come? Facendole funzionare, quindi dandole un meccanismo di segnale alla cellula nervosa e facendola migrare, quindi facendola spostare. Pensate soprattutto alla microglia, quindi la microglia che è una sorta di macrofago interno, no? Residente nel sistema nervoso centrale che si sposta e un po' lì crea qualche piccolo problema, no? Sembra all'interno del cervello, all'interno del nervoso spinale. Ma pensiamo anche agli astrociti che potrebbero andare in vicinanza della zona dove si sta formando la placca, quindi per cercare di ripararla. Una riparazione in eccesso della placca che si sta formando ci lascerà poi una cicatrice, quindi che noi avremo sempre, no? Quindi anche lì non è che è possibile modulare la risposta infiammatoria. Delle volte la risposta infiammatoria monta eccessivamente. Anche le capacità di riparazione del cervello e o del midollo spinale, quindi quando parlo di cervello mi riferisco anche al midollo spinale, quindi sistema nervoso centrale in genere, è tale, di tale entità che la riparazione potrebbe dare dei cambi che noi chiamiamo maladattativi, cioè non funzionali per quello che noi vogliamo. Il fingolimod, o meglio la sfingosina 1-fosfato, viene espressa anche su altre strutture come le cellule dell'endotelio, quindi le cellule che rivestono il lume vasale, quindi all'interno, quindi di tutti i vasi, e possono proprio per questa presenza, quindi del recettore su queste cellule avere un impatto sulla frequenza cardiaca e sul tono vascolare, sul tono vasomotore. Infatti impareremo nel corso di questa lezione che il farmaco può essere bradicardizzante, quindi abbassare notevolmente il ritmo cardiaco e avere anche un impatto di aumento, questo qui è molto più modesto, della pressione sistolica, molto più modesto rispetto a quello che osserviamo invece nei confronti della bradicardia. Al punto che è necessario, quando si fa la prima somministrazione del fingolimod, che il paziente sia disponibile nelle nostre mani per 7-8 ore, possibilmente con un elettrocardiogramma, con una possibilità quindi di monitoraggio dell'attività cardiaca continua, proprio per vedere di quanto scende la frequenza cardiaca e se il paziente può essere trattato successivamente con vingolimod oppure no. Pazienti per esempio che hanno un blocco di branca di secondo grado non possono essere trattati, pazienti che prendono dei beta bloccanti perché hanno delle patologie arrittimiche, quindi arrittimia cardiaca, non possono essere trattati, quindi sono degli aspetti che vanno tenuti in tempo di considerazione, non è che tutti i farmaci possono essere trattati con tutti i pazienti, abbiamo un paziente con determinate caratteristiche, il farmaco va scelto anche sulla base delle caratteristiche di quel paziente. Quindi abbiamo azione sui linfociti, azione immunosoppressiva, azione protettiva perché agisce direttamente sulle cellule residenti nel sistema nervoso, un'azione che non ci piace molto quindi perché ci dà un po' di fastidio di natura, mettiamola così, neurovegetativo, cardiovascolare se volete meglio, a me piace di più neurovegetativa perché comunque c'è il prefisso neuro, ma il cardiovascolare è importante che ne limita l'utilizzo in pazienti che hanno problematiche cardiache. In America per esempio dove non ci sono i centri dedicati alla cura della sclerosi multipla, vi posso dire che ci sono stati 11 casi di mortalità, quindi vengono definite morti improvvise, non si capisce bene perché questi soggetti sono morti, ma lì non ci sono i centri, lì qualsiasi neurologo può prescrivere qualsiasi farmaco, quindi il paziente diciamo secondo me non è grandemente controllato, è un paziente che viene scarsamente controllato, poi le distanze in America sono enormi, ma veramente sono enormi, quindi la possibilità che il paziente ha di viaggiare, di spostarsi anche per andare a incontrare il proprio medico non è tanta rispetto a come è combinata l'Italia e soprattutto come è combinata l'Italia per quanto riguarda la cura della sclerosi multipla. Vi ho detto più volte che ci sono circa 200 centri in Italia che sono dedicati alla cura di questa malattia, quindi con personale dedicato, quindi con medici, con infermieri, con spazi riservati, in Sicilia ci sono 18 centri che si occupano di questa malattia, per quanto poi ci sono dei centri che hanno un tot numero di pazienti, centri che ne hanno un po' di meno, comunque centri che hanno una maggiore o minore expertise, ma sicuramente ci sono dei centri dedicati. Ricordiamo ancora questo aspetto diciamo di immunosoppressione, quindi sul meccanismo d'azione con questa diapositiva e lì vi ho sottolineato col colore fucsia che nonostante questi linfociti vengono intrappolati un piccolo gruppo di linfociti, di linfociti T ecco, non vengono proprio, non restano proprio intrappolati a livello del linfonodo, infatti noi abbiamo sì una linfopenia, però abbiamo pazienti con, come vi ho detto, 400, 500, 600, 700, no? Quindi una parte dell'immunosorveglianza, no? Quindi di queste ronde che circolano ecco in giro per il corpo è garantita, d'accordo? Bene, l'azione importante è quello su cui dobbiamo pensare, quindi proprio sull'aspetto proprio della prima diapositiva che abbiamo fatto vedere sull'atrofia cerebrale, è che il fingolimodo attraversa la barriera emotencefalica, è una piccola molecola, se pensate che noi oggi curiamo la malattia per esempio con gli anticorpi, quindi che sono delle molecole un po' più grandi, no? Che non passano la barriera emotencefalica, se non per piccolissime quantità, lo 0,1% di una dose X che è data di un anticorpo, anche quelli umanizzati, anche quelli biologici, anche quelli che sono tutti biologici, quindi che non hanno niente di animale, non passano la barriera emotencefalica. E quindi gli anticorpi che noi utilizziamo possono agire solo in periferia, cioè bloccando in qualche modo alcuni aspetti del sistema immunitario però che viene dalla periferia, fuori dal cervello del midollo spinale. Il fingolimodo invece passandola, attraversando la barriera emotencefalica, è una molecola piccola, la spingolipidica, è in grado di agire direttamente sul sistema immunitario residente, quindi le cellule del sistema immunitario che sono presenti nel cervello del midollo spinale e anche sulle cellule nervose. E come leggete nel secondo punto, quindi proprio in basso a questa diapositiva, ci sono modelli animali che dimostrano, questo in vivo è pressoché impossibile da poter dimostrare, se non con quello che abbiamo in vivo con la visualenza magnetica sui dati di atrofia e cerebrale, che il fingolimodo possa limitare il danno di deminizzazione, quindi di distruzione della mia linea, della sostanza bianca in particolare, e possa invece potenziare, facilitare il recupero e la funzione delle cellule nervose. Ora questa azione avviene sempre grazie al recettore sfingosina 1-fosfato che viene espresso dalle cellule nervose e lì li vedete tutti ben disegnati, abbiamo l'astrocita, il neurone, l'oligodendrocita e la microglia. Vi ho messo anche, però questo qui è un po' meno facile da poter spiegare, che alcuni recettori, per esempio nel caso dell'astrocita è più frequentemente espresso il 3, mentre invece nel caso dell'oligodendrocita è più frequentemente espresso il 5, nel caso del neurone è più frequentemente espresso l'1, quindi la sfingosina 1-fosfato 1, quindi il recettore di primo tipo, il recettore sono di 5 tipi, se vi ricordate, come vi ho detto. Il significato però clinico sui diversi recettori non è stato ancora chiaramente stabilito, quindi noi non sappiamo assolutamente se il 3 per esempio rispetto all'1, rispetto al 2, rispetto al 5 ha più una funzione di proliferazione oppure di riduzione, vedete, di quelle arborizzazioni che hanno le varie cellule, che sono i processi dendritici, sono i processi astrocitari nel caso dell'astrocita, oppure se conferisce per esempio maggiore o minore mobilità alla microglia, la microglia è un macrofago attivato dentro al sistema nervoso centrale, quindi una cellula che può fare danno e che può anche riparare il danno. Vi è tutto chiaro? Allora qui vi voglio rappresentare invece quelli sono le azioni buone e le azioni cattive, con diversi colori. In rosso abbiamo gli aspetti protettivi, in giallo comunque marroncino con gli aspetti un po' che tendono a disturbare l'omeostesi del sistema nervoso centrale e in bianco la doppia faccia della medaglia, quindi aspetti protettivi e anche aspetti di detrimento, quindi di danno. Allora l'astrocita fondamentalmente non ci aiuta molto, sì è vero che rilascia dei fattori neurotrofici tipo il transforming growth factor beta, però l'astrocita partecipa per esempio nella presentazione dell'antigene e soprattutto amplifica la risposta immunitaria rendendola inappropriata, quindi la espande, cioè come si suol dire da un piccolo problema, crea una guerra, quindi una guerra, però questa guerra è ancora una volta dentro il sistema nervoso centrale, quindi se il teatro di guerra è il cervello, il midollo spinale comunque è chiaro che io vado a danneggiare quelle strutture necessariamente. Quindi la società amplifica la risposta immunitaria e poi soprattutto, ve l'avevo anticipato poco fa, è responsabile della formazione della gliosi reattiva, quindi nel tentativo di andare a riparare, riparare in maniera grossolana, quindi quelle cicatrici che magari nelle mani di un chirurgo plastico non si vedono, ecco, se non va dal chirurgo plastico e va a punto soccorso, magari c'è il primo chirurgo di turno che non è bravo, poi ci lascia qualche bella deturpazione nel volto, ecco pensate che queste deturpazioni l'astrocita le fa nella zona dove si è formata la placca. E poi rilascia tutta una serie di sostanze, di citochine e chemochine che hanno delle capacità attrattive, quindi per tutti i componenti dell'infiammazione, modulando la permeabilità delle barriere metoencefaliche, quel BBB, Saper Brain Blood Barrier. Questo è quello che fa l'astrocita. L'oligodendrocita invece che è praticamente il fornitore della guaina mielinica a livello del sistema nervoso centrale è la cellula che guida tutte le fasi di eliminizzazione, quindi una stimolazione dell'oligodendrocita da parte del fingolimod è benvenuta, perché se veramente il fingolimod riuscisse a lavorare realmente sull'oligodendrocita, siccome la guaina mielinica è formata dall'oligodendrocita, allora se l'oligodendrocita sotto fingolimod può riparare o può rigenerarsi addirittura, noi abbiamo la possibilità di rimpiazzare parte della guaina mielinica che viene distrutta. Quindi i recettori della spingosia monofosfato sulla superficie dell'oligodendrocita secondo me rivestono una notevole importanza su questo aspetto. La microglia ha un aspetto nettamente controverso, no? Perché da una parte ha tutta una condizione di rilascio di fattore neurotrofico o di citochine anti-infiammatorie, rimuove i prodotti di digestione della guaina mielinica. I prodotti di digestione della guaina mielinica sono delle sostanze che, quelle chemochine lì, quindi che vanno ad attrarre addirittura dal torrente circolatorio delle cellule autoreattive, quindi che poi riescono a passare la barriera motencefalica e quindi ad amplificare ancora il danno. Quindi è come se noi portassimo ancora dentro eserciti, plotoni di nemici che distruggono ancora il cervello. Dal punto di vista negativo è chiaro che sappiamo che la microglia è sicuramente un mediatore dell'infiammazione e presenta l'antigene, quindi presente diciamo il responsabile forse causale della malattia amplificandone la risposta immunitaria. Quindi quello che prepara l'organismo è risposta a questo tipo di insulto. E qui vedete le funzioni in cui questo tipo di segnale, quindi che è immediato dal recettore della spingosina 1-fosfato, qual è la loro rilevanza dal punto di vista clinico? Nei neuroni. Nei neuroni sicuramente è stato dimostrato, almeno per quanto riguarda l'animale, che vi può essere un'estensione, proprio un allungamento del neurite, quindi dell'assone, attraverso un'azione di stimolazione dell'NGF e agisce potenziando la trasmissione sinaptica e stimolando la neurogenesi, quindi nell'animale inferiore, ma non sappiamo se nell'uomo anche questo è possibile perché noi siamo fermi all'idea di bizzozzero, che il neurone sia una cellula perenne, altamente differenziata e quindi che non sia in grado di proliferare. Però già qualche anno fa in alcuni mammiferi è stato dimostrato, da Nottenbaum in particolare, che alcuni neuroni sono in grado di proliferare e quindi anche di spostarsi. Ovviamente tutto questo pezzo è stato dimostrato nell'animale, non è stato dimostrato nell'uomo. E' ipotizzabile, noi speriamo che questo possa accadere perché effettivamente a quel punto avremmo un farmaco anche molto più potente di quello che poi cercherò di farvi vedere. Sugli astrociti vi ho detto che la proliferazione che induce il fingolimod, soprattutto l'astrogliosi e anche la loro migrazione, non sempre è un fattore favorevole, no? Perché mi forma forse un'abbondanza di reazioni cicatriziali che però poi non è funzionata, perché una placca quindi che viene manicottata ancora di più, diciamo, da un tessuto cicatriziale determina un assone che non è per niente funzionale. Sulle cellule nervose abbiamo questa attivazione di regolazione della funzione microbiale, in particolare negativamente il rilascio di nitrossido, di ossido di azoto, che è un fattore che scatena tutte le reazioni radox e quindi ulteriormente processi di degenerazione. L'azione sui biologodendrociti, come abbiamo detto prima, potrebbe essere favorente il recupero della guaina mielinica che si è danneggiata. Vi ho detto prima che il fingolimod è in grado di attraversare la barriera emetoencefalica e quindi vedete una chiara dimostrazione con localizzazione del fingolimod marcato in un atomo di carbonio, come vedete lì, in grado di attraversare la barriera emetoencefalica e di reperirlo sia a livello encefalico, come vedete qui nella parte destra della diapositiva, e che nella parte centrale è anche a livello del midollo spinale. Quindi una dimostrazione chiara e incontrovertibile di quello che vi stavo dicendo. E qui i primi risultati animali sull'animale. Quindi qui adesso ci spostiamo in vivo, quindi non siamo più su quello che è l'aspetto introduttivo di questa molecola, no? Ma quello che è stato fatto prima di essere portato all'attenzione del clinico. Allora noi abbiamo la possibilità di avere almeno due tipi diversi di encefalite allergica sperimentale. Un'encefalite allergica sperimentale, diciamo, guidata da una condizione infiammatoria e un'encefalite allergica sperimentale guidata invece da una condizione degenerativa. Nel fingolimod vedremo poi come entrambi i modelli di encefalite allergica sperimentale possono essere impattati da questa molecola. Nella prima fase, nella prima fase di questa mia presentazione, vi faccio vedere gli effetti del fingolimod sull'encefalite allergica sperimentale. Diversi colori, come vedete a sinistra, quando il fingolimod è stato utilizzato nell'animale da esperimento, prima che l'encefalite allergica venisse a determinarsi, vedete qui? No? L'encefalite non si sviluppa, vedete? Questo è lo score clinico, ecco in nero, allora vi devo dire prima in nero, noi abbiamo lo score clinico, cioè l'animale può essere valutato, sottoposto a sperimentazione, con un punteggio che va da zero, quindi un animale normale, a un massimo di 5 quando l'animale muore. Quindi gli esperimenti purtroppo non sono sempre molto rispettosi, però viene ovviamente garantita all'etica anche da questo punto di vista, sappiamo che c'è tutta una regolamentazione particolare, dobbiamo sottoporre a un comitato etico specifico per fare un certo tipo di sperimentazione, qualora volessimo farlo qui da noi. Allora, a scopo profilattico vedete l'encefalite allergica sperimentale, come fa vedere questa curva non si sviluppa completamente, quindi il fingolimod protegge l'animale. Qui invece viene fatto un altro tipo di sperimentazione, cioè viene utilizzato il fingolimod al giorno dodicesimo, si comincia a somministrare il fingolimod, vedete? Quando l'animale già ha un picco, quindi possiamo immaginare che l'animale possa avere una paralisi delle zampe posteriori e forse anche di una zampa anteriore quando ha il 3, per lo più sono topi o ratti, e vedete come in pochi giorni, dal dodicesimo giorno al sedicesimo giorno, lo scor va a 0. Quindi il farmaco è assolutamente efficace, quindi nel fare recuperare, diciamo, la normalità al paziente, al paziente, scusate, all'animale. Qui invece cosa viene fatto? Viene utilizzato un altro schema, cioè l'animale viene mantenuto con una certa disabilità, quindi non si somministra il farmaco, vedete? Ha un recupero, perché come in tutte le cose noi abbiamo un recupero anche spontaneo, ma è un recupero parziale, cioè da 3-2, 3-2 scende a 2-5, 2-6, quindi mezzo punto migliora l'animale. A quel punto si fa passare ancora un po' di tempo, 30-40 giorni in tutto, da quando è comparsa l'encefilità allergica sperimentale, e si introduce il farmaco. Si introduce il farmaco e come vedete abbiamo un certo recupero, però il recupero, qui ci dice anche un'altra cosa, questo tipo di sperimentazione. È discreto ma non è totale, quindi noi possiamo avere, è quello che chiamiamo lì, un rescue, quindi una strategia di salvataggio, che però è una strategia di salvataggio che non porta la condizione a un livello di normalità, come negli altri due casi, quindi è come se noi fossimo arrivati tardi all'appuntamento biologico, cioè all'appuntamento con poter salvare l'animale, perché qualche cosa nella sua disabilità resta. E questo, guardate che questo qui è una condizione paradigmatica di tipo sperimentale e clinico, che noi teniamo anche in vivo nei nostri pazienti, cioè tutti i giorni, ma tutti i giorni veramente lottiamo, lotto, con i miei colleghi, con i miei colleghi e non dico altro, per fare capire che la terapia, se vogliamo trattare un paziente con sclerosi multiple, la dobbiamo instaurare il più rapidamente possibile. Già abbiamo questa evidenza dell'animale che è chiara, incontrovertibile, quindi non lascia alcun dubbio per il discorso che vi sto facendo. Quindi è come se noi avessimo una finestra temporale all'interno della quale possiamo fare alcune cose, dopo abbiamo già perso. Allora, qui ovviamente questi tipi di modelli non solo servono per misurare in cronico quello che è subcronico, diciamo, quello che è lo score dell'encefalite allergica che era stata determinata dall'animale, ma serve anche a valutare, diciamo, beh, tu forse, siccome sai che il farmaco deve avere questo tipo di affetto, allora sei un po' più dolce nel dire, beh, da 3 è sceso a 0 oppure da 3, 2 è sceso a 1 e quindi è migliorato, quindi vuoi dimostrare questa cosa qui e ce la racconti in questo modo. Noi quando abbiamo dubbi sui nostri pazienti, oltre che fare la clinica, che è chiaramente la cosa più importante in assoluto, oltre a vedere la risonanza magnetica, quindi che entra, come vi ho fatto vedere l'altra volta in tutti i processi diagnostici, utilizziamo un pezzo in cui lei è molto brava, è che è la neurofisiopatologia. Andiamo a misurare la velocità di conduzione dell'impulso centrale, delle vie sensitive, delle vie visive, quindi il potenziale come si viene a formare e se ci sono dei blocchi, se ci sono delle placche in qualche punto, quindi questa cicatrice che non fa passare bene l'impulso perché lì non c'è più la conduzione saltatoria, ma c'è la conduzione a punto a punto, se vi ricordate dell'elettrofisiologia, allora abbiamo dei rallentamenti vistosi. Qui è quello che succede qua, vedete in questo paziente, sottoposto il paziente animale, scusate qui siamo ancora in sperimentazione preclinica nell'animale, sottoposto a uno studio, a un'analisi dei potenziali evocati somatosensoriali, si vede nettamente come l'onda è rallentata, vedete dove cade il picco e qui invece in fucsia il fingolimod, il picco viene decisamente anticipato così e sovrappone chiaramente la linea grigia che è la linea dell'animale controllo, dell'animale che non era stato soggetto alla procedura sperimentale di encefalite allergica. Quindi preserva anche questa funziona. Questa diapositiva un po' più complessa ci fa vedere invece la capacità che ha sia di stimolare, il fingolimod, di stimolare la gliosi degli astrociti, quindi la prolifrazione degli astrociti, la vedete qui soprattutto a destra, confrontate solo gli estremi, la prima colonna che sono diciamo i normali e l'ultima colonna che sono i modelli di encefalite allergica sperimentale, quindi in coltura, pretrattati con il fingolimod, FTY 720 e il fingolimod, bene in sigla. E vedete chiaramente come abbiamo un effetto sugli astrociti, quindi gli astrociti effettivamente vengono stimolati, proliferano, abbiamo un effetto sulla mielinizzazione, quindi in questo caso viene misurata, vedete questo verde come quasi uguale a qui, no? A un soggetto in cui è assolutamente normale, no? Il soggetto sembra animale, scusate in maniera da clinico, quindi faccio questa confusione costante, e qui al neurofilamento, soprattutto l'antineurofilamento, perché il neurofilamento è un elemento di degenerazione del sistema nervoso centrale, di distruzione della sostanza grigia, di distruzione anche della sostanza bianca, e vedete se confrontate la parte sinistra e la parte destra è come vi sia quasi una sovrapposizione dal punto di vista istopatologico di quello che si osserva per l'animale normale. Qui lo vedete con un'altra colorazione, in questo caso il modello di encefalite è un modello da cuprizone, quindi è un modello assolutamente degenerativo. Guardate sempre il primo cartone, il primo riquadro sulla sinistra e l'ultimo riquadro sulla destra, e vedete come vi è una discreta somiglianza nella cultura pretrattata con fingolimod. Ora, quanto questo dal punto di vista clinico, clinico adesso mi porto quindi con un volo un po' molto ardito, nel clinico mi riferisco quindi adesso all'uomo, non più all'animale, abbia significato questo? Non lo sappiamo, vorremmo saperlo, no? Il problema però è che come vi ho fatto vedere, l'altra volta non ve l'ho fatto vedere, però ve l'ho detto. Noi guardiamo le risonanze magnetiche, potremmo anche misurare l'atrofia cerebrale, però non abbiamo uno strumento così sensibile che ci permette di dire che quel paziente ha perso tot in termini di atrofia cerebrale, che quindi questo tipo di trattamento ci ha fatto guadagnare un tanto. Noi possiamo raccontare questi aspetti sull'atrofia cerebrale guardando tutti i pazienti come media di quello che hanno perso, ma non come evoluzione longitudinale del singolo paziente. E questo è estremamente importante perché è possibile per esempio che un farmaco, adesso sto parlando del fingolimod, no? Ma il vostro obiettivo è un altro, qualsiasi molecola potrebbe avere questo tipo di affetto e a me interessa misurarla. Perché io posso dire che in quel paziente quella molecola funziona? Io ho necessità di avere uno strumento che longitudinalmente, prospetticamente mi dice esattamente come stanno andando le cose, non che mi dica questi pazienti hanno perso tot, questi altri pazienti hanno perso di più. Perché comunque non riesco a destrapolare quali sono i pazienti che realmente si avvantaggiano di questa terapia. Quindi nei 100 pazienti che tratto, anche se vanno meglio, ce ne saranno 40 e 50 che non vanno meglio e così è di fatto e io rischio di dare un farmaco che ha un bel po' di ombre, no? Inutilmente per giunto. D'accordo? Questi sono i limiti della clinica, quindi voi ci siete i cervelli giovani, floridi, aiutateci a sviluppare modelli di ricerca più adeguati per superare questo tipo di problema. Allora, in conclusione diciamo a questa prima parte, la delezione della spingosina 1-fosfato, il trattamento con fingolimod, riduce sicuramente la strogliosi, riduce la deminizzazione anche e danno a sonale nelle encefalite allergiche sperimentali, recupera la velocità di conduzione nervosa e anche la funzione motoria, migliora la deminizzazione, riduce la deminizzazione come leggete lì e certamente riduce la deminizzazione e l'attivazione micogliale indipendentemente dal modello che vede l'infiltrazione dei linfociti. Quindi anche nei modelli, come vi ho detto poco fa, con cuprizone, quindi che è un modello di encefalite da degenerazione, quindi non da agente antigenico che monta una risposta immunitaria, d'accordo? I batteriologi, i virologi queste cose lo capiscono bene, i chimici sì, no? Sì, lo capite bene, d'accordo? Io vado avanti sempre lo stesso perché ora ci spostiamo nel campo della clinica, per me è più congeniale parlare di clinica, ovviamente, però vi è tutto chiaro? Sapete tutto sul fingolimod? Beh, benissimo, mi fa piacere, guardate che fingolimod significa fra qualche giorno, Ponesimod, Siponimod, Ono e Buff, e anche un altro farmaco, Radiance, sono cinque farmaci che agiscono tutti nello stesso modo, cioè modulando il recettore sfingosia 1-fosfato, con diverse potenze, quindi con diverse tossicità o con minore tossicità, questo lo dovremo vedere, però in questo momento le companies, sono diverse companies, quindi Big Pharma e anche i chimici stanno lavorando su molecole che dovrebbero essere un po' più pulite del fingolimod, quindi per esempio a limitare gli effetti cardiotossici, a limitare gli effetti infettivi del fingolimod, no? E ci sono ben altri cinque farmaci che in questo momento sono in fase 2 e fase 3 di studio. Io vi sto parlando di questo perché questo già, io lo prescrivo, si chiama gilenia, non si trova nelle farmacie comuni, si trovano le farmacie degli ospedali.